La Regione è un ente importante, è un ente da salvaguardare, è un ente sul quale investire. Questo è il nostro punto di vista, questo è quello in cui noi crediamo e quindi più risorse e più competenze. Come farlo con la strada costituzionale dell'articolo 116,3 della Costituzione? Coinvolgendo però i cittadini in questa scelta perché è una scelta così importante, una scelta fondamentale per la Regione va presa insieme ai cittadini coinvolgendoli, confrontandosi con loro e è vero che noi siamo qui e abbiamo un mandato politico e dobbiamo votare su mandato dei cittadini ma su una scelta così importante il coinvolgimento diretto è fondamentale e quindi il referendum. In più questo referendum in cui nel quesito si riprende l'articolo 116,3 e tutte le competenze alle quali si potrebbe arrivare essendo citate e poi riprese dal 117, questo referendum potrà avvenire tramite votazione elettronica quindi con una scelta innovativa in cui la Lombardia si pone come prima Regione che fa questa scelta e porta avanti questa scelta quindi anche l'innovazione e la novità abbattendo i costi perché anche noi siamo d'accordo che 30 milioni sono tanti questo è il film che noi abbiamo visto, che abbiamo raccontato e che da giorni abbiamo con responsabilità raccontato ai nostri elettori e ai cittadini lombardi e quindi per questo motivo noi voteremo a favore di questa proposta di referendum nostra proposta di referendum Dopodiché avviene quello che abbiamo visto in quest'aula soprattutto durante l'ultima fase, questo pomeriggio quando da parte dell'opposizione, di una parte dell'opposizione, di una parte della minoranza abbiamo visto una patetica messa in scena schizofrenica di un partito che fino a due ore fa ci dava dei poltronari delle stampelle, dei venduti se vogliamo che si sono per un voto elettronico immolati sull'altare di Maroni e che sono scesi al voto di scambio, alla fiducia a questa maggioranza, fiducia che noi non daremo, mai daremo e contro la quale sempre ci esprimeremo e criticheremo per tutte le scelte che hanno fatto questa minoranza che fino a due ore fa ci etichettava in questa maniera vedendo il referendum, definendo il referendum come fumo negli occhi come una propaganda populista arriva in aula dopo essersi chiusi in una stanza nella peggiore delle modalità della vecchia politica arrivano qua e magicamente il referendum diventa uno strumento il referendum diventa un momento da mettere in atto previa avvio della proposta istituzionale magicamente si cambia idea perché si era rimasti col cerino in mano si era rimasti nell'angolo e si cerca di uscire e magari sulla stampa e questo lo dico forte e chiaro perché deve essere chiaro magari uscirà anche questa grande apertura del Partito Democratico che invece si è dimostrato pessimo nel modo con cui ha gestito la cosa nel modo con cui ci ha etichettati in maniera ingrata e poi è arrivato qui è arrivato qui ha ritrattato le posizioni cercando di ottenere all'ultimo nella più vecchia e becera strategia partitica da Primissima Repubblica e si sa che il Presidente Renzi ha una certa ammirazione per questo tipo di modo di agire è arrivato qui e ha ritrattato il tutto quindi io respingo al mittente tutte le accuse con forza tutte le accuse che ci sono state mosse durante queste settimane e con responsabilità noi la nostra posizione l'abbiamo detta forte e chiara davanti a tutti, davanti ai cittadini e voteremo a favore per le ragioni che ho detto questo i cittadini lo devono sapere tutto il resto è un bruttissimo film soprattutto da parte della minoranza del PD che ancora una volta dimostra di essere diversa da noi e noi ne siamo orgogliosi di essere diversi da voi